Compagni d'allenamento un buongiorno a voi, è in arrivo la bella stagione. Mi raccomando, chi ha la possibilità si dedichi all'attività fisica esponendosi al sole, meglio ancora se è in atto un processo di integrazione con tutti quei substrati, con tutti quei prodotti che ci permettono di ottimizzare la salute delle ossa. Ricordatevi che esporvi al sole permette al vostro metabolismo di aiutare il processo di rimineralizzazione ossea. Un'attività di mobilità è davvero piacevole se fatta al sole, ovviamente senza eccedere. L'allenamento stesso, anche con sovraccarico, si sposa benissimo con una bella giornata primaverile. Rendiamo l'allenamento piacevole e il sole, l'aria aperta, possono davvero contribuire a rendere l'allenamento qualcosa di soddisfacente. Mi raccomando.